Vento forte e pioggia battente fin dalle prime ore del pomeriggio di sabato nell'Aretino, non una sorpresa visto che fin dalla giornata di venerdì era stata diramata l'allerta meteo con codice arancione. Tante le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per lo più per segnalare allagamenti anche in città. Ad essere colpiti soprattutto alcuni sottopassaggi nella zona industriale di Prataccia alle porte di Arezzo che hanno ovviamente congestionato il traffico. Qui alcuni automobilisti sono rimasti bloccati proprio a causa degli allagamenti all'interno dei sottopassaggi. Per risolvere le difficoltà sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno soccorso gli automobilisti. Per la giornata di domani sono segnalate ancora piogge e l'allerta meteo resterà in vigore fino alla mezzanotte. Domenica il peggioramento è generale delle condizioni. Il codice interesserà tutte le province toscane. Le precipitazioni assumeranno prevalente carattere di temporale anche di forte intensità insistendo sulle zone settentrionali in mattinata per poi trasferirsi su quelle centromeridionali nel pomeriggio sera. Le piogge saranno comunque abbondanti sull'intero territorio regionale e non si escludono associate alle piogge colpi di vento e grandinate. Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione in atto i comuni della regione toscana consigliano di fare riferimento alla protezione civile del proprio comune e al sito regionale www.regione.toscana.it.